ciao ragazzi come state benvenuto questo video oggi apriamo un bel pacco che mi è arrivato oggi questa qua ecco qua la maglia c'è già e abbiamo aperto ecco la maglia di cagliari di 20 21 guardate quanto bella se non di chi ora che di che nandet è arrivato oggi bella 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 veramente ok raga ci vediamo prossimo video bellissima ciao 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 ciao